Radio Fly e Arezzo TV vi raccontano le buone pratiche con ospiti e approfondimenti sociale, ambiente, energia, sostenibilità, responsabilità sociale di impresa, inclusione, formazione esperienze da raccontare e condividere vi aspettiamo in diretta ogni giovedì su Radio Fly alle ore 13 e sul digitale terrestre 214 di Arezzo TV alle 21 conduce Massimo Gianni con Greta Settimelli Una trasmissione realizzata grazie al contributo di Estra, Lega Ambiente e Coingas In redazione Matteo Casali e Paolo Castiglia Allora oggi abbiamo una novità, non c'è Greta per ragioni di impegni personali e personali di lavoro un po' uno e un po' l'altro e abbiamo a sostituire Greta Settimelli e Matteo Casali che non è nuovo, non è all'esordio ufficiale Ciao Matteo Ciao Massimo e buongiorno a tutti Matteo fra l'altro lo dico per chi ci segue è un po' il caporedattore diciamo di questa trasmissione fortunata che è arrivata alla diciannovesima puntata e quindi siamo proprio al photo finish sì un bel traguardo direi abbiamo festeggiato i 18 anni la maggior età la scorsa settimana allora Matteo abbiamo un ospite in studio poi ne avremo un altro paio in collegamento diretto oggi parliamo di tovaglia quadri quindi ci caliamo nello scenario suggestivo e incantevole di Anghiari che io considero una delle grandi risorse di questo territorio una perla sì una buona pratica che oggi appunto valeva la pena di raccontare siamo alla diciannovesima puntata delle buone pratiche come dicevi tu Massimo io darei subito il benvenuto al nostro ospite qui in studio ad Andrea Merendelli maestro Merendelli se mi permette maestro è la definizione adatta Andrea grazie per il titolo ma grazie soprattutto per l'intro per la cover dei Clash che ha aperto questa puntata quindi io sono molto onorato di questa cosa penso che sia casuale però l'ho presa come un buon segno anche se Andrea io sono sempre per l'originale perché i Clash sono i Clash va bene Joe Strammer non lo sostituisci con nulla al mondo per iniziare a parlare di Tovaglia Quadri parlando di Joe Strammer è già un bel inizio possiamo chiudere anche qui la trasmissione benissimo parliamo appunto Andrea di Tovaglia Quadri tu sei regista e uno degli autori di Tovaglia Quadri questa iniziativa che va in scena tutti gli anni a Ferragosto nel periodo d'agosto ad Anghiari è uno spettacolo appunto come cita la locandina è una scena toscana con una storia da raccontare in quattro portate so che tu hai già anticipato nel Fuorionda prima mi spiegavi anche il significato di Quadri che è come dire è molto affascinante e magari nel corso della puntata sarebbe bello che lo spiegassi anche ai nostri ascoltatori ora per raccontare di cosa si tratta diciamo semplicemente poi ti passo la parola che l'evento appunto si rinnova ogni anno con una storia, con un tema legato all'attualità che però attinge anche dal ricco patrimonio della tradizione territoriale le tematiche sono quelle legate alla memoria di Anghiari ai racconti dei nonni vicende di vecchia data che appunto tu insieme all'altro autore che poi raggiungeremo più tardi Paolo Pennacchini restituite alla collettività insieme a un lavoro di squadra che coinvolge il territorio che coinvolge appunto il teatro di Anghiari di cui sei direttore artistico ecco la prima domanda che ti faccio dopo questa appunto questa introduzione come nasce Tovaglia Quadri? Tovaglia Quadri nasce nel 1996 ed è una nascita abbastanza come dire con tante paternità perché nasce dall'osservare e dal vivere un po' lo spirito di una Toscana di ritorno dove tornavamo dopo un po' di peregrinare in giro per il mondo e soprattutto dall'osservazione di luoghi come Monticchiello dove una comunità si metteva in gioco e si raccontava attraverso quella esperienza unica e irripetibile che è il teatro povero di Monticchiello ovviamente non potevamo copiare Monticchiello ma è altrettanto ovvio che Anghiari aveva una piccola particolarità aveva diciamo un borgo ancora molto vivo pieno di abitanti cosa che invece Monticchiello ha raccontato anche lo spopolamento di certi territori della Val d'Orcia che oggi sono appannaggio quasi esclusivo di un certo turismo anglo-becero in qualche modo si può definire a volte e questo che invece accadeva ad Anghiari era che Anghiari ancora aveva una sua vita aveva un suo profilo una sua identità di terra di confine questo angolo di Toscana che si infila nelle Marche appunto sta fra l'Emilia Romagna e l'Umbria e questo sperone di Toscana come tutte le zone di confine aveva tante cose da raccontare tante sfumature linguistiche da esplorare e tante leggende vere o presunte che ci piaceva portare in scena non tanto attraverso la formula del teatro popolare che ha un rispettabilissimo e ha una sua dignità che noi non mettiamo assolutamente in discussione ma raccontandole attraverso il meccanismo degli abitanti di una piccola piazza che è il Poggiolino dove un tempo c'erano in questa piazza delle osterie c'era una vita che che si trova ad Anghiari che si trova ad Anghiari il centro storico il centro storico sopra le mura una terrazza sulle mura e in quella piazza abbiamo cominciato a portare appunto agli abitanti perché io e Paolo Pennacchini siamo i due autori però devo ricordare che i veri autori forse delle storie sono le persone che andiamo a intervistare e che aggiustano con le loro note con le loro storie aggiustano ogni volta come dire la cronologia, i numeri, i luoghi, i toponimi ridefiniscono un po' quello che noi a volte raccogliamo e lo rimettono un po' in ordine e tutto questo poi l'abbiamo fatto cercando di dare un senso a tutta l'operazione attraverso una cena in quattro portate sopra le magnifiche tovaglie del panno di Anghiari che l'azienda Busatte ormai da secoli tesse un po' per tutto il mondo perché insomma è un panno conosciuto in tutto il mondo era in 1996 la prima edizione esatto quindi siamo a 22 anni 23esima edizione quella di quest'anno 23 è vero perché se ne conta io in matematica ero un disastro ascolta Andrea c'è un grandissimo lavoro di ricerca ovviamente però secondo me l'idea sensazionale e ne abbiamo parlato anche in un paio di puntate fa fra l'altro in altri ambiti all'interno di Le Buone Pratiche l'idea sensazionale secondo me è quella di far parlare le memorie storiche quindi i nonni coloro che hanno veramente qualcosa da raccontare in una realtà come quella che viviamo oggi fatta diciamo prevalentemente di messaggi messaggini, internet insomma siamo abbastanza condizionati dalla tecnologia quindi torniamo a far parlare quelle che sono le memorie storiche beh sì, la tecnologia è uno strumento come dire, un'arma a doppio taglio della quale poi ci siamo più volte occupati anche dentro tovaglia quadri la memoria che passa attraverso il racconto che passa attraverso le interviste degli abitanti si ascoltava prima di andare in onda appunto un servizio dove si diceva appunto che l'Italia si sta spopolando e lo spopolamento dell'Italia raggiungerà dei picchi altissimi perderemo forse qualche milione di abitanti fisiologicamente che si sposteranno tutti al nord questo grande flusso questo spostarsi verso il nord questo grande movimento migratorio circolare che interessa un po' tutti sembra che interessi solo l'Italia in realtà è un fenomeno planetario è un po' quello che a volte noi abbiamo cercato di indagare attraverso le memorie e in questo senso forse la nostra buona pratica personale è stata proprio quella di andare a cercare nelle famiglie quegli anelli di congiunzione con le memorie raccontate dai più anziani che si stavano perdendo alla morte alla scomparsa naturale spesso novantenni di queste persone e da lì da queste ultime cose raccolte abbiamo cercato sempre di tenere vivo il testimone ovvero progressivamente è un esercizio mentale piano piano via via che le persone le vecchie generazioni se ne vanno noi abbiamo sempre cercato di conservare l'anello come dire di la catena di trasmissione con quelle che venivano poi anche noi ormai non siamo più nuove generazioni lo eravamo quando abbiamo cominciato noi abbiamo in linea anche il sindaco che doveva essere presente in diretta qui alla trasmissione ce l'abbiamo in diretta via telefono benvenuto sindaco Alessandro Polcri sì buongiorno a tutti buongiorno allora è estremamente scusate un po' di ritorno mi sentite? noi la sentiamo perfettamente non so che ritorno abbia buongiorno a tutti buongiorno 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 anche ad Andrea mi scuso se non sono non posso essere presente lì con voi ma stamani avevo un incontro importante a Piede Santo Stefano su un tavolo della sicurezza è il prefetto in quest'ora dunque per forza maggiore non posso essere presente dunque era solo per scusarmi dunque entro nel merito della questione mi fa piacere che in questo caso si parli in qualche modo di quelli che sono gli eventi Anghiari da questo punto di vista ha molti eventi anche di spessore non solo da un punto di vista anche culturale per esempio noi abbiamo avuto adesso finita proprio il primo maggio la mostra mercato dell'artigianato che ricordo la sua 43esima edizione dunque vuol dire che Anghiari punta sulla tradizione ma anche su un contesto di innovazione perché comunque questa mostra si ha tutti questi anni vuol dire che ha saputo anche rinnovarsi niente era solo questa questa piccola premessa insomma per farvi per farvi questo questo saluto poi per quanto riguarda Tovagli Aquadri poi Andrea penso che abbia già nel merito parlato di questa bellissima manifestazione è una manifestazione che crea anche quelle condizioni per far conoscere Anghiari un po' su tutto il territorio ormai è diventata una manifestazione che piace insomma che crea un momento di ritrovo ormai di tutti gli anni e la sapienza qui è nel mettere i prodotti del territorio dunque con queste due tre portate con la capacità innata degli anghiaresi di essere dei veri propri attori dunque giustamente quando si dice noi lo studio è quello di far emergere quello che è il tessuto anghiarese tutte le sue le sue tradizioni quello che si vive insomma la giornata anghiarese e portarlo poi in scena in questa bellissima rassegna che è proprio Tovagli Aquadri bene sindaco la ringraziamo per la preziosa testimonianza ovviamente quando avremo modo di ripresentare parlare di Tovagli Aquadri saremo onorati di averla qui in diretta ecco così meno faremo anche conoscenza con anzi la faremo conoscere ai nostri radioascoltatori insomma direttamente di persona ecco perché siamo in diretta streaming ecco io sono ho già partecipato a una puntata a una trasmissione già se non sbaglio proprio all'inizio di quest'anno dunque sono stato già vostro ospite benissimo lì a Radio Fly dunque ecco sarebbe la seconda seconda volta bene allora non sarà un esordio ufficiale grazie l'aspettiamo grazie l'aspettiamo ciao sindaco bene per tornare appunto sulle tovaglie a quadri appunto ora non so quanto tempo abbiamo ancora massimo abbiamo un minuto scarso poi dobbiamo dare la linea ecco Andrea hai un minuto per dire qualcosa su tovaglie a quadri giocatelo bene 60 secondi 60 secondi a partire da ora beh cosa dire in un minuto tovaglie a quadri gli ingredienti li sappiamo sono quelli del cibo a chilometro zero le storie ogni anno una storia diversa i cicli i cicli di tovaglie a quadri e diciamo che abbiamo chiuso l'anno scorso la del ciclo della cosiddetta trilogia della politica che è partita con Disagio un titolo abbastanza forte insomma che alludeva un po' anche delle tematiche sul mondo del lavoro di quegli anni lì poi con Poderi forti due anni fa abbiamo insomma raccontato anche lì un altro mondo che cambiava che era un mondo anche della società della politica locale e lo scorso anno con Via da noi noi ci siamo concentrati un po' su quella che è la visione dei territori periferici rispetto al centralismo regionale di Firenze e quest'anno più tardi ve lo diremo dopo la pubblicità detto questo ha lanciato anche la pubblicità quindi restate con noi Radio Fly e Arezzo TV vi raccontano le buone pratiche con ospiti e approfondimenti sociale ambiente energia sostenibilità responsabilità sociale di impresa inclusione formazione esperienze da raccontare e condividere vi aspettiamo in diretta ogni giovedì su Radio Fly alle ore 13 e sul digitale terrestre 214 di Arezzo TV alle 21 conduce Massimo Gianni con Greta Settimelli Una trasmissione realizzata grazie al contributo di Estra Lega Ambiente e Coingas in redazione Matteo Casali e Paolo Castiglia Nuova precisazione non abbiamo Greta Settimelli ma Matteo Casali e dobbiamo ringraziare oltre che Estra anche Coingas che partecipa attivamente alla trasmissione e quindi un preziosissimo sponsor io ascoltando Andrea Merendelli insomma mi dispiace ecco sono quelle situazioni in cui mi dispiace interromperlo con la pubblicità però sono tante le cose per esempio stavo riflettendo su questo Poderi Forti ecco i Poderi Forti che insomma in tutta Italia insomma hanno sempre la meglio però la didda diceva lunga sul fatto che comunque i poderi forti da luoghi di miseria e di mezzadria e di grande sofferenza che sono rimasti tali fino agli anni 70 diciamo la mezzadria termina ai primi anni 80 ufficialmente anche se poi delle appendici si trascinano anche dopo in realtà chi coltivava la terra con il famoso oro verde del tabacco è cambiato molto il rapporto anche delle economie del territorio e questo cambio di rapporto ha portato anche a un cambio della politica per cui le elezioni di due anni fa sono state anche quelle diciamo oggetto appunto hanno determinato anche proprio un cambio radicale a livello territoriale noi l'abbiamo indagato cercando in maniera ovviamente con la leggerezza e l'ironia di tovaglia quadri che non cerca mai di far diventare troppo pesanti le cose di prendersi troppo sul serio abbiamo fatto quella che riteniamo un po' di satira anche politica e generazionale perché lo vediamo nelle percentuali di chi va a votare e chi è andato a votare le recenti elezioni regionali la partecipazione si sta riducendo del 50% quindi è un segnale che forse chi fa politica dovrebbe cogliere e noi ci limitiamo semplicemente a raccontarlo ma continua a non coglierlo no no appunto si va avanti così perché dicono sempre la stessa cosa non so se il refrain è sempre lo stesso vogliamo ascoltare il cittadino dalle parti aprire un tavolo programmatico un tavolo d'ascolto eccetera poi una volta che sono messi a sedere io non faccio differenze no 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 perché non voglio assolutamente che qualcuno pensi che faccio il tifo per uno o per quell'altro sono affari miei che non devo condividere con nessuno però una volta insediati poi diciamo che il trend è sempre il solito diciamo che ai grandi livelli io credo che ci possano salvare soltanto le buone pratiche delle amministrazioni come dire le piccole amministrazioni locali abbiamo non per fare una per essere una piaggeria nei confronti del sindaco ma un sindaco per esempio di un piccolo comune come Andiari può fare tante cose per incidere nella società e nella vita di tutti i giorni di una popolazione ha più relazioni diretta col cittadino ha più ascolto e questa è una cosa importante la nostra stessa operazione viene fatta ascoltando il cittadino ascoltando quello che la gente si racconta nei bar e la vita dei bar è stata molto formativa abbiamo sulle spalle nei nostri curriculum anni e anni di partite di pay tv di partite a carri circoli anche di aggregazione mi immagino circoli di aggregazione però il bar in questo senso come luogo ha una centralità assoluta ad Andiari è un luogo dove le generazioni giocano a carte quello vestito da rapper con l'ottantenne ecco questa è una cosa che forse caratterizza Andiari un pochino di più rispetto ad altri luoghi del nostro territorio c'è una vita è un attaccamento ci sono pochissimi episodi di come dire di delinquenza organizzata perché c'è un grande controllo del territorio diciamo che l'Andiari è una figura molto fiera a volte anche con delle eccezzi di fierezza però noi andiamo molto orgogliosi di questo e lo raccontiamo allora dovremmo avere collegato telefonicamente Paolo Pennacchini che è uno degli autori insieme ad Andrea Merendelli di Tovaglia Quadri vediamo se ci sente sì perché poi ci hanno detto anche che ha un pronto sì noi ci siamo ci siamo nel fuori onda ci hanno detto che hai un Paolo benvenuto tanto per iniziare un cellulare del 1918 non so se risponde a verità sì un mobilotto invece di caporotto cellulare a vela siamo in pausa prima di attraversare il confine si ricarica a legna ascolta Paolo allora innanzitutto insomma parlare un attimo di Tovaglia Quadri per per mettere in risalto il grande espressore culturale che che racchiude questa questa iniziativa e mettere in evidenza anche una cosa fondamentale che insomma anche le grandissime richieste che ci sono non vengono mai soddisfatte e questo è un punto a vostro favore perché evidentemente la cassa di risonanza è abbastanza importante beh certo dopo così tanto tempo di questo siamo molto soddisfatti più un grande espressore culturale direi un grande spettacolo vero e sincero e forse è questo che un po' manca alle persone che vengono ascoltare lo spaccato di vita ironico di verità però che è molto molto semplice molto reale e si coinvolge probabilmente la foda che si fa per entrare deriva da questo ecco una domanda che volevo fare rivolgere a tutte e due era riguardante questo bellissimo articolo che vi dedicò quella che io ritengo sia una delle menti più raffinate dei nostri tempi che è Michele Serra qualcuno può piacere non può piacere io l'adoro veramente vi fece un articolo che mi commosse insomma mise in risalto il fatto che ancora c'era una parte d'Italia che riusciva a scoprire valori veri riusciva a far emergere valori veri risponde rispondi rispondi ai miei ho parlato anche troppo poi mi hanno messo i clash e mi sono emozionato subito come stai Andrea ti saluto c'è un raffreddore le picondilite il ginocchio al minisco destro e il piede il tallone sotto mi fa male ma insomma parte questo bene la gotta è niente no niente poi c'è una scena domenica sera magari se volete continuare fate pure fate voi magari togliamo anche il disturbo quello che dici in relazione che io non vedo come si fa nei televisivi ah rispettatevi che io sono fuori dal live quindi quello che è stato scritto è un motivo di orgoglio perché siamo degli autori di campagna laddove la campagna toscana è universale quindi è bene vivere come siamo noi come lo facciamo abbiamo le delle finestre del mondo come ognuno di noi però sembra che solo se si sta a Milano o Roma si è riconosciuti e poi bisogna capire che cosa significa il riconoscimento bisogna capire che cos'è una certa visibilità un certo successo questo non cambia niente o nulla viviamo insieme alle persone dalle quali poi troviamo spunto con un ritmo un modo e uno stile che ci va bene così ecco almeno a parte mia poi andrea non so non so c'ho da portare a cambiare la fare tagliando ma la questione la questione è che abbiamo dimenticato di dire che quello che diceva Paolo adesso era seriamente Michele Serra come tanti altri come Gianfranco Capitta che ha curato l'edizione del libro hanno avuto sempre uno sguardo particolare sui volti e sulla verità degli attori gli attori tovagliacuari raggiungono a volte dei livelli di verità che normalmente non si trovano nel teatro tradizionale e questo per noi è molto molto importante e significativo e quello che ci ridanno loro di feedback diciamo è la nostra pratica quotidiana e non dimenticando neanche tutti quelli che ci lavorano intorno Mario, Piero insomma tante persone che dalla mattina alla sera durante prima e durante e dopo tovagliacuari si mettono in moto la macchina ecco tovagliacuari è una macchina che si muove e che produce un fenomeno culturale che di rimbalzo poi genera discussione anche nel post e a volte sono discussioni che durano anche mesi durano anche mesi ricordo degli argomenti che sono diventati poi convegni dei luoghi che sono diventati poi giardini della memoria restaurati sono nati dopo le discussioni venute fuori durante tovagliacuari dove ogni serata è diversa dall'altra ecco mi piacerebbe Massimo ecco visto che parliamo di tanti aspetti vorrei chiedere sia ad Andrea che a Paolo diciamo il punto il perno centrale di tovagliacuari che è appunto un'opera teatrale che nasce da un'operazione letteraria di scrittura e quindi di traduzione poi di questa opera diciamo letteraria in qualcosa che va in scena ecco voi siete esperti di teatro tu Andrea insegni anche lo insegni oltre che dirigere appunto come dicevamo il teatro di Anghiari come avviene tutto questo se lo possiamo spiegare in due minuti ma avviene che ci mettiamo lì è già iniziata la macerazione del materiale che porteremo poi a distillare durante quest'estate è una drammaturgia che tiene conto è una drammaturgia agevolata dai luoghi dai volti sappiamo su chi scrivere cuciamo addosso ai personaggi le situazioni e soprattutto abbiamo uno sguardo poi Paolo potrà dire insomma anche lui un'altra cosa ma uno sguardo fisso sui tipi le maschere che da quando siamo piccoli nelle nostre campagne abbiamo avuto la fortuna di vedere di viverci a fianco questo contatto umano che poi più si allarga la città più si va in quartieri praticamente suburbani legati alle grandi metropoli poi alla fine non conosci il vicino di casa insomma questo non succede nei piccoli centri c'è ancora molta umanità c'è contatto c'è solidarietà c'è c'è quel contatto umano che purtroppo manca nelle grandi metropoli rispondi te Paolo dovremmo avere ancora Paolo Pennacchini non senta più niente sarei in un viadotto con raffiche di vento tipo lo salutiamo allora io capisco una cosa che è arrivato il momento di salutarti Paolo va bene saluto tutti i studi e portavi alla sempre va bene ciao grande Paolo grandissimo Paolo beh sì un'umanità che senza altro è quella con la quale siamo cresciuti e soprattutto persone con le quali non dobbiamo né fingere né dimostrare niente di diverso da quello che siamo cioè il problema è che il mondo della finzione teatrale spesso costringe le persone a dei teatrini nel teatrino pre, durante e dopo che sono uno scimmiottare un po' quelle che sono anche a volte le un po' tristissime meccanismi di relazione per noi non cambia niente nel senso Tumaglia Quadri è un passaggio fisiologico dove noi entriamo dentro e usciamo non indenni perché comunque ci cambia il rapporto con le persone ci cambia ma tutto sommato ecco con quel giusto disincanto la giusta distanza dalle cose che sennò che siamo tosciani a fare insomma dovremmo avere ancora qualche minuto Massimo giusto volevo chiedere qualcosa riguardo l'edizione prossima che sta per per arrivare insomma alle porte siamo con i sassi alle porte usiamo le terminologie dalla regia ci dicono intanto che abbiamo due minuti Andrea quindi calcola bene il tempo 120 secondi 120 secondi per dire che sarà un'edizione che apre un nuovo ciclo ripeto la trilogia della politica l'abbiamo chiusa lo scorso anno e questo nuovo ciclo lo apriremo andando un po' ad indagare il rapporto devastante a volte a tratti brutale nei meccanismi nei numeri fra l'e-commerce mondiale e il piccolo negozio al dettaglio di Anghiari come di tutto il territorio retino insomma andremo a cercarmi cercarne anche altri fuori da Anghiari che avevano relazione però con Anghiari quindi il rapporto diretto fra chi compra chi vende chi racconta quello che vende che non esiste più e chi sbrutalizza questo in una sintesi di una scarpa piuttosto che di un occhiale griffato piuttosto che di una componente elettronica non ha più nessuna relazione ecco questo tipo di relazione vi lo giocheremo un po' attraverso un espediente che ovviamente non vi posso dire è un titolo che sarà ai limiti della citazione in giudizio da parte di qualcuno perché alla fine poi la fine di tutti quanti sarà di non uscire neanche di casa per andare a comprare il pane perché lo faremo via internet questo è una cosa ci vorremmo schierare una volta tanto con i tanto distrattati commercianti che non è un termine dispregiativo ma chi sa raccontare quello che vende secondo me ha un grande pregio bene siamo tutti curiosi in attesa di questa nuova edizione di Tovaglia Quadri questa era la buona pratica che abbiamo raccontato oggi cena toscana con una storia da raccontare in quattro portate appuntamento ad agosto giusto dal 10 al 19 agosto il poggiolino di Anghiari benissimo ringraziamo ancora Andrea Merendelli grazie a voi regista e autore appunto di Tovaglia Quadri e poi il sindaco Alessandro Polcri che è stato con noi nella prima parte e Paolo Pennacchini che ci ha abbandonato poco fa lungo la strada per Madrid al grido di forza viola per la felicità di tutti quelli che ti fanno per la Juventus che ci seguono tipo il presente però non lo diciamo ma sei anche juventino anche questo oltre a non essere Greta sei anche juventino va bene abbiamo riso abbiamo scherzato ma soprattutto abbiamo parlato di una cosa che rappresenta un valore aggiunto del nostro territorio Tovaglia Quadri grazie a tutti voi appuntamento a giovedì prossimo per la puntata numero 20 Radio Fly e Arezzo TV vi raccontano le buone pratiche con ospiti e approfondimenti sociale ambiente energia sostenibilità responsabilità sociale di impresa inclusione formazione esperienze da raccontare e condividere vi aspettiamo in diretta ogni giovedì su Radio Fly alle ore 13 e sul digitale terrestre 214 di Arezzo TV alle 21 conduce Massimo Gianni con Greta Settimelli una trasmissione realizzata grazie al contributo di Estra Legambiente e Coingas in redazione Matteo Casali e Paolo Castiglia Grazie Grazie Grazie